Oggi abbiamo fatto una prova di grande voglia e di grande volontà, quindi non dobbiamo andare a casa, c'è la voglia, la volontà c'è stata, chiaro che servono i risultati, chiaro che se i risultati non vengono c'è il rischio di cadere un attimino, tra virgolette, in depressione, ma quello è il compito mio, di non far cadere la mia depressione.